Catanzaro-Cosenza è il primo grande match della prima giornata di Lega Pro girone C. Non è uno scherzo, bensì un derby che, la macchina della casualità, ha voluto per domenica 28 agosto, con il Nicola Ceravolo che sarà vestito a festa per il grande derby calabrese. Una rivalità che già comincia a far discutere in queste ore, con il Catanzaro in grande crisi dopo l'esonno di Alessandro Erra, è un Cosenza che, pur non scompiando in salute, sembra essere una squadra molto più concreta, già vista nelle prime due uscite di Coppa Italia. Contro infatti la frattese, con la vittoria in casa per 1-0, nonché nella sconfitta di Bari al San Nicola, la squadra rosso-blu ha comunque mostrato quel gioco pragmatico e cinico che l'ha contraddistinta negli ultimi due anni, con la conquista di una grandissima Coppa Italia e un quinto posto onorevole. Quest'anno ovviamente gli obiettivi saranno confermati da un punto di vista rosso-blu, mentre il Catanzaro sembra essere ancora un canteri aperto, un nuovo allenatore, altri giocatori che arriveranno nel capoluogo calabrese, è comunque un'incertezza che sembra permanere. Per quanto riguarda le statistiche, non è una sfida da over, tanto per dirla con i termini tanto care degli scommettitori. Poche volte infatti la somma dei gol ha raggiunto quota 2 e negli ultimi quattro incontri si è assistito a ben tre pareggi. Sarà dunque un derby di forte impatto emotivo, che potrebbe essere penalizzato dalle decisioni che si prenderanno negli organi di prefettura. Questa sfida infatti molte volte è stata a rischio per i rapporti non certo cordiali tra le tifoserie, e molte volte si è giocata a fronte unico, ovvero con una sola tifoseria sugli spalti, che in questo caso porterebbe ad essere vantaggiato ovviamente il Catanzaro, che potrà contare sui suoi supporter giallorossi. Vedremo se nel corso dei prossimi giorni ci sarà una decisione definitiva, ma tanto sta che questa prima sfida di campionato rende ancora più bello una Lega Pro tutta da vivere in questa stagione.